I nostri cari trapassati. Cerchio K attraverso Marco a cura di VB. Domanda. Come possiamo aiutare i nostri cari trapassati? Entità Emanuel. Dovete cercare di non vivere in maniera troppo agitata e troppo pessimistica i vostri problemi? Perché quando voi lo fate essi si sentono costretti in forza dell'amore che provano ad aiutarvi, interferendo così nella vostra vita. Ed allora rientrano in una dimensione umana e soffrono perché impotenti. Vorrebbero cambiare le cose concretamente ma non possono perché non hanno un corpo fisico e quindi non hanno la possibilità di agire concretamente nel piano fisico, di mostrarvi tangibilmente la loro presenza. E' questo che li blocca, capite? Queste cose devono spingervi a sentirli svincolati dalla terra, essendo voi stessi tanto maturi e coraggiosi da comprendere che la morte è un momento della vita, che solo per voi ha un senso di separazione. In realtà essa è una manifestazione della vita assoluta che tutto comprende e trascende. Ragione di più dunque per rimanere sereni, costantemente convinti che tutto è attorno a voi, anche loro. Domanda. Se io per ipotesi dovessi disincarnarmi in questo momento, potrei incontrare mio padre che è trapassato da tempo? Entità beata, voi non potrete incontrare i vostri cari trapassati che vivono regioni più sottili delle vostre in quel momento in cui voi trapassate, perché sarete immersi in una meditazione, in una rivisitazione, sia pur globale, della vostra esistenza. Tuttavia essi che vivono in quelle regioni più sottili vi condurranno, voi ignari, perché circoscritti dalla vostra meditazione verso i meravigliosi, luminosi orizzonti che vi attendono.